Purificarci da falsità, mondanità e indifferenza, ritornando a Dio per ritrovare noi stessi. Questa l'esortazione di Papa Francesco per la Quaresima, ieri pomeriggio in Basilica Vaticana, nella Messa del Mercoledì delle Ceneri. Dobbiamo, a detto, ritornare alla semplicità e alla condivisione con gli altri, facendoci liberare dalla grazia del Signore. La Quaresima sia un tempo di benefica, potatura della falsità, della mondanità e dell'indifferenza, per non pensare che tutto va bene se io sto bene, per capire che quello che conta non è l'approvazione, la ricerca del successo o del consenso, ma la pulizia del cuore e della vita, per ritrovare identità cristiana, cioè l'amore che serve, non l'egoismo che si serve. Mettiamoci in cammino insieme, come Chiesa, ricevendo le ceneri, anche noi diventeremo ceneri. E tenendo fisso lo sguardo sul crocifisso. Francesco ha quindi conferito il mandato ai missionari della misericordia, che per il Giubileo hanno ricevuto dal Pontefice l'autorità di assolvere anche i peccati riservati alla sede apostolica, invitandoli ad essere segni e strumenti del perdono di Dio, aprendo le porte dei cuori, superando la vergogna e aiutando chi è in difficoltà a non fuggire dalla luce divina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.